Ciao a tutti amici, TanoTV per voi! Allora, eccoci ancora qui, pronti per vedere questi nuovi video? E allora guardiamo la copertina di oggi! Rosalinda Cannavò, ho trascurato i miei denti, adesso devo andare dal dentista. Una nuova poesia da ascoltare e guardare insieme. Eccoci qua, amici miei! Allora, come avete visto nella copertina di oggi, il primo servizio è quello di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Rosalinda non sta tanto bene perché ha trascurato i suoi denti e ora li fanno male. Per tanti impegni che ha avuto in quest'ultimo periodo, adesso vediamo quello che è successo in questi giorni. Metti un like, iscriverti al canale e attiva la campanella. Aspetto che vi collegate un po' tutti. Da quanto tempo non faccio una diretta, eh? Vi sono mancata? Ciao a tutti! Ragazzi, vi sto portando con me in un posto, allora. Per gli interisti, magia pura. Però anche per gli altri amanti del calcio sarà un posto che vi piacerà, vi farò vedere un po' di cose e poi un altro evento. Quindi, doppio velo! Grazie a tutti! Buonasera a tutti! Benvenuti a Casa Key. A grande richiesta è tornata qui da noi, Jessica Salazier. Ciao! 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 Allora, noi oggi stiamo andati a vedere la cucina. Sì. Che arriverà sicuramente. Sicuramente, ma ancora non l'abbiamo ordinata. Siamo un po' in ritardo, io devo scappare al lavoro. No, però lui è tranquillo. La cosa bellissima è che, proprio, lui è tranquillissimo. Vuole essere lì, ma tanto anche non arrivarsi, magari ci possiamo sbattire. Noi ci proviamo, ma. No, io come devo fare, come devo fare, come devo fare. Amore, sono troppo stressata per questa cosa di arredare casa. Questa sera voglio andare al cinema, quindi controlli i film che ci sono e scelgo io. C'è una cucina per due, cucina sul Nilo. C'è Moonfall Kitchen, che è michelese. E poi ci basta. È un'ossessione! Sono tornata tra di voi. Allora, io questi giorni li ho passati veramente facendo cose in continuazione. Poi, tra l'altro, si aggiunge il cattivo tempo a Milano, quindi io nera, perché mi condiziona tantissimo l'umore, come la maggior parte delle persone, perché non ho mai sentito nessuno dire se fuori fa brutto tempo, io sono allegra comunque. E lasciatemelo dire. E poi problemi ai denti. I problemi ai denti che ho trascurato, perché presa dalle mille cose che dovevo fare in questo ultimo periodo, non sono andata subito a farmeli curare, quindi oggi arrivo con una frattura nuovamente di un molare e quindi domani devo correre dal dentista. Ho tanti problemi ai denti, sì, dovuti soprattutto al mio trascorso di anoressia, che mi sto portando dietro e spero di risolverli perché non ne posso più, veramente. Infatti ho scritto al mio dentista dicendo che prima ero sdentata. Oh, cavolo, siamo diventati già un numero importante! Che carini che siete! Siete pronti a questa diretta? Allora, io come ho detto da tanto tempo che non faccio una diretta, ritorno per parlare di pelli insieme a, non un'esperta, di più, una vera e propria professionista, che in realtà il brand lo conosco da tantissimi anni, ve l'avevo già detto in alcune storie, sto parlando di Miamo, l'ho scoperto in un periodo in cui la mia pelle era veramente un disastro, circa otto anni fa, avevo perso tantissimo peso, la mia pelle era molto secca, ho scoperto l'acido ialuronico di Miamo e non l'ho mai più abbandonato. Oggi, infatti, insieme a noi ci sarà appunto la dottoressa Camilla D'Antonio, che è il direttore scientifico di Miamo, che è questo appunto brand che si occupa di skin care, che trovate in farmacia e anche online, nel sito di Miamo, e quindi parleremo insieme a lei un po' delle varie problematiche legate appunto alla pelle. Adesso aspettiamo che faccia la richiesta, così potete fare tutte le vostre domande a lei. Io ne ho raccolte un bel po', eh! Ok, forse... Eccola qui! Mi sembra di averti accettato... Eccoci! Ciao! Ciao a tutti! Che bella come sempre! No, guarda, stasera poi mi sono messa di tutto in faccia prima di venire in diretta, perché ero piena di faccia stanca dalla giornata. Mi stanché, ho visto, ti ho seguito un po' nel tuo profilo, visto che hai tenuto una lezione, se non sbaglio, questa mattina alla Bocconi. Sì, ho fatto una lezione per delle giovani, anche in realtà uomini e donne, di un master in luce e in management molto carino, e ho raccontato la storia di Miamo, il case history, quindi molto bello, una bellissima esperienza. Allora, quello che mi colpisce, mi ha subito colpito di te, oltre che io conoscevo, come ho detto prima, il brand, è la tua passione. Hai una passione incredibile per quello che fai, e quindi lo trasmetti quando ti ho incontrato dal primo incontro e questa cosa mi ha colpito molto. Io ho ricevuto tantissime domande, quindi preparati, adesso non so se ce le faranno sicuramente anche qua sotto. Ho raccolto un po' di domandine. Ti ho perso? Non ti vedo più. Sei frizzata. Voi mi vedete? Aspetta che forse abbiamo perso Camilla. Voi mi vedete? Eccola. Mi ha rifatto la richiesta. Non so cosa è successo. Hai perso la connessione. Ti sei scollegata. Forse non va bene la connessione, quindi speriamo di rimanere collegata. No, no, ma non mi è mai successo. Non so per quale motivo. Così, a un certo punto ho visto un buio. Io ti ho visto frizzata. Esatto. No, no, no. Però ci sono, ci sono. Eccomi qua, tornata. Ho ricevuto tantissime domande perché ieri ho creato delle box con dei macro argomenti, quindi per non fare confusione. Ne ho viste qualcuna e oltretutto è bellissimo perché andavano a gruppi proprio per tematiche. Sembrava che si erano messi d'accordo, no? Macchie, acne, quindi bellissimo, bellissimo. Sì, sì, in realtà io le ho fatte proprio divise in argomenti così per non fare confusione e magari andare anche in ordine nel rispondere a più persone possibili. Sicuramente, come dicevo, ce ne faranno anche qua sotto, però volevo dare spazio anche a quelle domande se tu sei d'accordo. Assolutamente sì, io partirei proprio da quei temi e sono tutta per te. Quindi tu sei la mia giornalista e io rispondo a tutte le tue domande. Che bello, che bello. Allora, se sei d'accordo, partirei dalle domande per la pelle secca. Ok, ma giusto così a caso. Non lo so, giusto così a caso, perché io ho la pelle secca, quindi approfitto di questo spazio anche per portarmi a casa. Mi fa ridere questa cosa che hai detto, pelle secca, dermatite atopica. Allora, innanzitutto io ci tengo a dire una cosa che mi piacerebbe, a parte ovviamente vi farò vedere i prodotti, ma mi piace anche insegnarvi qualcosa oggi. Perché comunque sono, indipendentemente dalle linee che voi decidete poi di acquistare, che sia mi amo, che sia un altro brand, mi fa piacere proprio insegnarvi alcuni temi. Quindi questo è la cosa per me più importante di stasera. Allora, per quanto riguarda la pelle secca, la pelle secca è un problema, diciamo, che può scaturire a qualsiasi età, nel senso che può nascere un bambino con la dermatite atopica e quindi sviluppare di fatto una forte secchezza cutanea. Quindi non è un tema che è legato all'età. Poi è chiaro, con la menopausa, eccetera, eccetera, che è legato quasi tutte le donne e anche gli uomini in un altro modo, comunque anche perché chiaramente non vanno in menopausa, possono sviluppare con l'avanzare dell'età una pelle secca. Quindi questo è un tema veramente che può interessare tutti. Poi parleremo anche della pelle grassa per chi vuole rimanere. Molto brevemente, devi sapere che la nostra pelle si idrata dall'interno, nel senso che l'acqua arriva alla pelle dall'interno, non dall'esterno, se non sugli strati più superficiali. Quindi la prima cosa, se volete una pelle idratata, è bere. Questa è la prima cosa. Perché se non lo facciamo, chiaramente non ci riusciamo ad idratare in maniera corretta. La seconda cosa è utilizzare dei cosmetici che non mascherano il problema dell'idratazione, ma che realmente la curano. Quindi quello che io consiglio di fare è la miscela tra l'acido ironico, e poi i lipidi. Non so se si vedono. Si, amo l'acido ironico. No, io stavo dicendo prima che tu entrati, si si vedono. Stavo dicendo che io ho scoperto, mi amo quell'acido ironico, perché era un periodo dove ero dimagrita tantissimo, e quindi mi ero segnata tantissimo in viso. Avevo la pelle ancora più secca di quella che ho io, normalmente. E quest'acido ironico è trepitoso. Esatto. Non so se vedete, questo acido ironico, questa è la gocciolina che c'è, ok? Questo acido ironico è un acido ironico che va bene anche per le pelli miste, per le pelli grasse. Non si usa solo per chi ha la pelle secca, perché quando avete la pelle, eventualmente la pelle grassa, l'acido ironico si emulsiona con il vostro grasso della pelle, e ha un effetto anche filler riempitivo molto interessante. Viceversa, se avete una pelle secca, è importante utilizzare sia l'acido ironico che i lipidi essenziali. Quindi noi facciamo miscelare questi due sieri, per cui si prende una goccia di acido ironico, quindi in questo modo, ok? E una goccia di lipidi essenziali, quindi in quest'altro modo, ok? E si miscelano, per cui fate una miscela un po' tipo il piccolo chimico, ok? E poi si usano su tutto il viso. Pensa che li puoi usare anche sulla punta dei capelli, li puoi usare sulle labbra, li puoi usare veramente ovunque, li puoi usare nel contorno occhi, e vanno a idratare tutto quello che è lo stato superficiale della nostra pelle. Quindi è molto interessante questa cosa. E poi, visto che leggevo prima una serie di domande sulla dermatite atopica, noi facciamo una crema che si chiama Dermacomplex, che è questa qua, se qualcuno è interessato la può screenshotare, ed è una crema che utilizzo anche sui miei bambini molto piccoli, un bambino di un anno e mezzo, una bambina di 4 anni e mezzo, ed è una crema antinfiammatoria, lenitiva, straordinaria, ed è molto interessante da utilizzare anche dopo questa miscela che vi ho fatto vedere. Quindi dopo la miscela della passione. Esatto. Quindi ricordate, lo trutto si può usare anche sul corpo dei bambini, l'uso per esempio anche sulle irritazioni dei pannolini, oppure sugli adulti, perché ha problemi di psoriasi, dermatite seborroica, la dermatite atopica, cioè tutti gli stati infiammatori della pelle. Ok? Quindi ricordate. Sì, perché i primi due sono dei sieri, giusto? Quindi dopo il siero, in teoria, va sempre aggiunto una crema, perché il siero non ha un'idratante. Diciamo che il siero non ti dà quella soddisfazione che ti dà una crema, ma ti cura più in profondità. Cioè, molto spesso le creme hanno un'azione più di mascherare il problema. Cioè, ti metti questa crema, poi ogni mattina che ti svegli, ti senti ancora più disidratata. Ok? Mentre invece, cioè, è come se non ti sentissi curata. Quindi è come se ogni volta senza crema non riesci a stare. Quindi è molto importante questo tema. E questa miscela va proprio a curare la disidratazione. Pensa che nasce in America per i pazienti che facevano, per esempio, il laser, facevano, utilizzavano dei peeling ad alta concentrazione, proprio per far sì che la pelle si riparasse. Ok, perfetto. Insomma, le domande, come hai detto tu, erano prettamente infatti su dermatite. Vorrei dire... Esatto, volevo dire un attimo il nome del brand, perché lo stanno chiedendo più volte. Si chiama Mi Amo il brand, quindi non potete sbagliarvi. Eccolo qua, Mi Amo. Oltretutto, ci tengo a dire una cosa, Rosalinda, che oggi per noi parte la festa della donna, nel senso che è una settimana che noi dedichiamo alla donna. e diamo oltre al 20% di sconto su tutti i nostri prodotti. C'è in omaggio un beauty case. Dopo ti faccio vedere bene. Oh, che carino! Tutto in tessuto riciclato. E all'interno è un cotone waterproof. Quindi all'interno praticamente c'entra il mondo. Dopo ti faccio vedere, ma veramente... Ma lo voglio anch'io, allora! Sì, no, è bellissimo. Ma poi, oltre a questo, oltre al beauty, oltre al 20% di sconto, su 100 euro di spesa, regaliamo il Gentle Rose, che è questo detergente. Quindi se andate sul nostro sito, miamo.com, e cercate anche la farmacia più vicina a voi, è molto comodo. Cioè, è una promozione limitata nel tempo, chiaramente. Questo detergente, invece, è un detergente che ho scelto da regalare, perché il tema è trova il tempo per amarti, e mi amo, ti regala il primo gesto della beauty routine, nel senso che il detergente è una cosa molto importante. Ora, poiché dovevamo scegliere un detergente che andava bene per tutti, abbiamo scelto il Gentle Rose, perché se anche uno ha la pelle grasse, magari usa sul viso un detergente specifico per pelli grasse, in realtà questo lo puoi usare sul corpo, lo puoi usare per detergere le mani in maniera delicata. Insomma, è molto trasversale. Super versatile. Quindi ci sono un po' di regali oggi in diretta. Che bello! Quanto dura la promo? Fin quando possono avere questo sconto? Allora, la promo dura fino al 10 di marzo, ed è valida sia online sul sito miamo.com che nelle farmacie aderenti. Quindi se avete sul nostro sito, trovate la farmacia più vicina a voi. E oltretutto, poi, se stella dopo la diretta, io comunque rimango un po' collegata sul sito, perché le nostre beauty, ci sono le nostre beauty che sono bravissime. Quindi se le persone hanno voglia di chiedere un consiglio o qualsiasi cosa, può andare sul sito e ci sono le nostre beauty bravissime. Fino stasera, non dico a mezzanotte, ma le 11 di marzo. Ho visto che avete una chat nel vostro sito su miamo.com dove potete chiedere e fare le vostre domande. Perché la cosa bella di miamo è che ci sono dei veri e propri protocolli. Io ho questo librizzino fantastico dove ci sono tutti i protocolli in base alle vostre esigenze che ho amato veramente alla follia. Invecchiamento, pelle secca, pelle grassa, proprio per tutte le esigenze specifiche. Quindi se avete qualche domanda potete andare sul sito e chiedere appunto alla dottoressa o al suo team super esperto. Allora, io vedo che tu hai tantissimi follower che ti seguono e che ti amano e questa è una cosa stupenda perché devo dire che sono poche le persone, io faccio tante dirette, però sono poche le persone ecco, tu studi proprio, sei lì con la tua brochure che guardi. È una cosa veramente bellissima. Mi piace fare le cose fatte bene ma soprattutto io faccio le dirette solo con persone e parlo di prodotti che provo e che mi piacciono. Non faccio cose che non mi piacciono. Quindi li conosco anche e quindi sono preparata anche per questo. Non solo perché magari mi studio qualcosa prima di andare in diretta. Quindi è veramente un piacere essere qua con te e parlare con tutte le persone che appunto mi seguono e come ho detto hanno fatto veramente tante, tante domande. Tantissime. No, tantissime. Infatti una, adesso io se tu sei d'accordo passerei alla pelle grassa, Neika. Certo, certo. Tantissime domande su questo tema e quindi ci tenevo a prestare veramente due minuti. Se volevi, se ve le vuoi fare tu le domande, qualche domanda volevi leggere. Guarda. Sì, sì, se vuoi, se sei d'accordo sì. Ad esempio, mi hanno scritto tantissime donne tipo ho 50 anni e ancora mi vengono i brufoli. Un'altra, io ho 60 anni e ho ancora i brufoli. Faccio la pulizia con sapone delicato. Cosa devo fare? Che cosa posso fare? Allora... Quindi molto spesso si pensa che solo una pelle giovane può essere acneica. Invece non è così. Esatto. Allora, l'acne innanzitutto, l'acne, la pelle grassa, che comunque a volte uno non deve per forza avere i brufoli. Anche banalmente una pelle che ha una brutta trama con i pori dilatati, punti neri, eccetera, eccetera, diciamo, ha necessità di essere trattata in un certo modo. Quindi, nel nostro protocollo noi prevediamo l'uso di questo detergente che si chiama HBH, che è un detergente a base di alfa e beta idrossi acidi, quindi acido glicolic, scusatemi, acido salicilico, acido citrico, eccetera, eccetera. Poi facciamo utilizzare l'acido salicilico al 2%, che facciamo usare con una garza di cotone, va strofinato il viso nelle aree che vi interessano, si tiene due minuti e si risciacqua con acqua fredda. E l'altra cosa molto interessante per chi ha la pelle acneica è questo siero che invece si chiama Oil Free Gel Ultra Matte ed è un siero che si può anche utilizzare sul viso sopra il make up, adesso vi faccio vedere, per asciugare il grasso in eccesso. Quindi, per tutte le persone che hanno pelle grassa, quindi lucida, no? Quando si lucida tanto la pelle. Esatto. Tu metti questo siero e lo tamponi come se fosse una cipria liquida in questo modo e soprattutto per chi adesso ha problemi di acne da massacrata per chi ha problemi di infiammazione della pelle superficiale, eccetera, è molto interessante perché va proprio ad asciugare e sfiammare la cute, quindi è un siero straordinario e se avete appunto problemi di danno da mascherina potete utilizzarlo anche fondamentalmente molto facile anche durante il giorno portando nella borsetta, quindi non è un siero che si mette solo a casa, si può mettere sia sotto che sopra il make up. infatti si può portare in giro perché magari se sei anche truccata lo puoi mettere sopra. Esatto, esatto. Dopodiché un'altra cosa molto interessante sempre per chi ha la pelle acneica o comunque con brufoli SOS scusami un attimo mi chiedono se puoi ripetere il nome del detergente assolutamente quello per la pelle acneica non so se lo vedete così potete fare uno screenshot si chiama H-A-B-H-A eccolo qua non so se lo riesci a leggere io lo leggo credo io lo leggo bene ok poi l'altra cosa molto interessante per tutti coloro che hanno quel brufolo che vi annoia vi crea fastidi ma non per forza l'acne ma anche soltanto io per esempio ogni volta che mi viene il ciclo mi vengono quei due o tre brufoletti quelli ormonali ecco che vengono ridossati il ciclo un po' a tutti bravissima allora questo prodotto si usa sopra la crema o sopra il siero ok e non si agita vedete che c'è una doppia fase quindi una fase rosa e una fase bianca trasparente quindi non va agitato si prende il cotton fioc si mette nella fase rosa e si applica sui brufoli ok direttamente si va a dormire ci si sveglia la mattina dopo che il brufolo è molto più molto meno infiammato molto più secco quindi è cicatrizzato e questo è veramente un prodotto straordinario oltretutto dura un sacco di tempo e sì perché ne basta pochissimo solo sul brufolo bravissima si chiama dry spot eccolo qua quindi dry come asciuga lo spot per cui il brufolo e funziona molto molto bene veramente sicuramente è meglio del dentifricio i vecchi metodi che ci dicevano di mettere su il dentifricio prima di andare a dormire che a volte io l'ho fatto e ho fatto peggio perché mi ti è infiammato ancora di più aspetta che lo rimetto per Irene che fa lo screenshot si chiama dry spot eccolo qua volevo rispondere a Norina che chiede per le occhiaie cosa si può fare allora noi abbiamo una crema specifica per il contorno occhi soprattutto per occhiaie e per borse che è questa qua qui non si legge bene si chiama advanced eye cream comunque se andate sul sito di Miamo esistono solo due contorno occhi uno si chiama age reverse l'altro si chiama advanced eye ve lo scrivo così vi rimane questo contorno occhi serve a drenare la zona perioculare e quindi va benissimo per tutti i colori quali hanno problemi di occhiaie di borse eccetera quindi funziona molto molto bene drena molto bene la zona perioculare l'altra cosa importante se invece come vedrete oggi e stasera vi parlerò anche molto di seri perché mi amo questa particolarità ok il pigment control lavora sulle occhiaie iperpigmentate quindi lavora se avete problemi di occhiaie marroni quindi non solo violacee in cui bisogna drenare ma proprio marroni allora è importante associare anche il siero e lui si chiama invece pigment control che è questo qua e serve anche per chi ha problemi di iperpigmentazione quindi ha problemi di melasma macchie post-infiammatorie insomma i problemi di iperpigmentazione di macchie ok infatti sono macchie tantissime anche domande macchie dovute al sole macchie dovute all'invecchiamento quelle fastidiose macchiette che vengono qui quando d'estate ci si macchia qui che sono odiose e molti mi hanno chiesto se c'è qualcosa che appunto può aiutare a farle andare via esatto in questo periodo dell'anno noi per il melasma per le macchie allora volevo solo fare una piccola precisazione perché c'era una ragazza che scriveva sulle macchie da acne quindi macchie post-infiammatorie allora in quel caso noi facciamo utilizzare il siro pigment control ok insieme all'acido salicilico quindi se la persona insomma quello con la garza giusto? esatto bravissima quello che va passato con la garza bravissima quindi si usa l'acido salicilico si utilizza il siro pigment che è lui e si utilizza la crema che si chiama tripla brightening cream che è lei che è una crema specifica per le macchie per le iperpigmentazioni questi stessi due prodotti quindi sia il siro che la crema tripla brightening si possono usare anche per le macchie di melasma quindi le macchie quella del baffetto il centro della fronte eccetera eccetera e normalmente consigliamo di utilizzare un peeling specifico per il viso che in questo periodo dell'anno si potrebbe utilizzare questo è piccolino ma sono in realtà all'interno della scatola otto tubi più un copanetto quindi che si deve fare una si deve seguire appunto un protocollo non ci sento più di nuovo mi senti te? mi senti? adesso sì adesso sì sei tornata eccoci allora sono otto tubi per otto settimane di applicazione quindi un tubo lo fai per tre volte quindi magari inizi lunedì poi fai il mercoledì poi lo fai il venerdì e così via per otto settimane l'applicazione generale di questo peeling Simona dice giustamente troppi disturbatori è vero ci sono un po' di un po' di tutto che disturba ma non è al massimo vado a bloccare tranquilla blocco tutti i disturbatori a me nel senso a me interessa soltanto dare dei messaggi e per chi interessato li ascolta e chi vuole fare il simpatico fa il simpatico comunque detto questo nei momenti in cui utilizzate diciamo dei protocolli specifici per per le iperpigmentazioni è molto importante però farsi consigliare il protocollo giusto quindi noi siamo a disposizione nel senso che come dicevo prima sia la nostra chat sul sito sia diciamo sia il servizio di consulenza online sia le farmacie perché tutti i nostri clienti farmacie vi aspettano insomma per chi per chi vuole vuole partecipare alle giornate alle consulenze eccetera almeno siete seguite perché perché è molto importante non scegliere un prodotto così out of the blue ma sceglierlo in funzione diciamo di una di una reale necessità ecco no se no si rischia di fare peggio ma il questo trattamento lo può fare anche chi ha la pelle secca cioè cosa serve allora hai fatto una domanda molto giusta perché in realtà il trattamento per le macchie di Miamo grazie all'uso di questo peeling che è quello piccolino che adesso ecco proprio perché è piccolino me lo sono perso lo ho messo ok però così lo si può portare esatto grazie all'uso di questo peeling eccolo qua l'ho messo qua grazie all'uso di questo peeling va bene anche per le pelli sensibili e secche non solo secche ma anche sensibili quindi è un peeling che ti permette di trattare oltretutto questo si era il pigment control si può usare come dicevo prima anche nella zona perioculare per chi ha problemi di occhiaie iperpigmentate e si può utilizzare anche in gravidanza per chi oltre che d'estate per chi per chi insomma è incinta piuttosto per chi va al mare e ha problemi di iperpigmentazione quindi è un prodotto molto molto trasversale molto super sicuro ecco quindi lo posso fare anche io lo proverò lo proverò no allora tu non hai problemi di macchie tu hai problemi di macchie ma insomma sono piena di lentigini che è diverso lo so però d'estate tendono ad unirsi un po' tra di loro e a diventare anche un po' macchie cioè si accentuano ancora di più e si uniscono ecco sono molta paura di questo che poi quel tempo appunto possano gradire ancora di più lentigini per le lentigini chiunque soffre insomma di lentigini lo stesso protocollo serve a schiarirle più velocemente ma chiaramente non è che togli le lentigini semplicemente schiarisce quelle che durante quell'estate si sono diciamo si sono iperpigmentate leggevo qualcuno che scriveva sulle macchie scure chiaramente questo protocollo specifico è proprio indicato per le macchie scure invece per tutte le iperpigmentazioni e ci chiedeva mi chiedeva Maltese aspetta com'è che il suo nome la ragazza riesce a leggere meglio di me le domande io me le prego no chiedeva l'accio salicilico va bene per l'acne e per le macchie allora l'accio salicilico va bene per l'acne e per le macchie post infiammatorie da acne mentre invece il renewal pill è più indicato per le macchie di melasma soprattutto su pelli sensibili scusa l'ignoranza cos'è melasma? allora il melasma sono delle macchie che si formano per esempio su quella che diceva il codice a barre si forma sul centro della fronte sulle zigomi eccetera sono delle macchie molto larghe no? che un po' diciamo come dire un po' disomogenee sul viso che danno molto fastidio alle persone quindi per rispondere a Francesca mia figlia ai 3 anni può usare questi prodotti dipende dal prodotto nel senso che se ha problemi di macchie li può usare ma è raro che una ragazza di 13 anni abbia problemi di macchie se non manca i post infiammatori in quel caso assolutamente sì non c'è una questione di età e chicca dice i lipidi possono essere usati per idratare la zona perioculare assolutamente sì come dicevo all'inizio della diretta per chiunque abbia la pelle secca disidratata lipidi e acido uronico si possono usare in tutta la zona perioculare assolutamente vediamo se c'è qualche altra domanda invece che ci avevano fatto nella box ah prodotti non comedogeni cioè che non vanno a ostruire i pori allora in realtà tutti i prodotti di mi amo sono non comedogenici quindi su quello potete essere potete stare assolutamente diciamo tranquille volevo rispondere un attimo a Maltese che ci sto facendo sedute di acido glicolico può andare bene allora l'acido glicolico è un ottimo principio attivo noi abbiamo un peeling esattamente così all'acido glicolico solo che in questa stagione che stiamo cominciando ad andare verso la stagione estiva preferisco utilizzare l'altro peeling cioè il renewal perché è molto meno rischioso sulle iperpigmentazioni quindi anche Giampa Gilarche credo che si chiami così anche per lei lo stesso identico protocollo se andate sul sito di Miamo.com trovate protocollo macchie della pelle scrivete sul cerca e vi esce fuori il protocollo che vi ho fatto vedere adesso è un protocollo straordinario invece Silvia chiede se c'è un prodotto che può aiutare la pelle grassa con delle palline di grasso allora quelli si chiamano per disinfiammare allora probabilmente si chiamano granone di miglio perché le palline di grasso sotto cute sono i granone di miglio non so se si riferisce a questo però nel caso in cui avete la pelle grassa e volete disinfiammare utilizzate lascia un sale scinico cioè lui che è favoloso volevo parlare volevo se sei d'accordo un attimo agganciare l'altro tema del prodotto rassodante allora rassodare il viso è sicuramente il più grande challenge che viso collo decolteggio eccetera è il più grande challenge che tutte noi aziende cosmetiche abbiamo nel senso che è difficile rassodare il viso perché il viso ha varie componenti cioè abbiamo un tessuto sottostante che è il tessuto osseo diposo muscolare eccetera e poi quello superiore che invece riguarda proprio la pelle ora come cosmetica una delle cose diciamo più utili in assoluto almeno per quanto riguarda la Miamo noi facciamo utilizzare tantissimo questo siero che si chiama collagen boost anche più dermatite si possono utilizzare sì per chi ha la dermatite tutti i prodotti di Miamo si possono usare ma ci sono proprio quelli specifici per la dermatite comunque tornando a noi collagen boost è il nostro siero per per rassodare la pelle ed è un siero che si utilizza sotto il viso anche sul contorno occhi potete usarlo mattina e sera ed è quello che vi darà proprio l'effetto più rimpolpato del viso magari massaggiando bene con movimenti verso l'alto sempre verso l'alto e invece ci chiedevano anche un prodotto per collo e depolte che spesso tralasciamo non idratiamo mai questa parte esatto guarda noi abbiamo un prodotto che si chiama NEC è una crema per il collo tipo questa ok si chiama proprio NEC revitalizing ma abbiamo anche un'altra crema che si chiama stretch marks che è questa qua che è una crema invece per le smaiature per il rassodamento dell'interno braccio interno cosce che io faccio usare tantissimo anche sul collo e sul decolleté perché ti dà un effetto elasticizzante e tensore che si vede subito l'effetto e quindi anche quello è un bellissimo diciamo un bellissimo risultato a livello cutaneo quindi ci sono due creme o la NEC si chiama proprio NEC o la stretch esatto o la stretch quindi non solo prodotti per il viso ma anche per il corpo mi amo giusto? esatto e per rispondere a Rosanna ragazze per chi si è persa prima abbiamo parlato della parte di idratazione in maniera molto veloce nel senso che ovviamente non siamo andati su tutti i nostri prodotti ma giusto per darvi qualche pillola ecco poi abbiamo fatto una parte sull'acne sulla pelle grassa quindi vi ho fatto vedere ricapitolando il detergente l'esfoliante il sforo specifico eccetera e poi adesso stiamo parlando un pochino delle macchie è ovvio che abbiamo trattato dei temi molto complessi in pochissimo tempo in poco tempo e comunque con protocolli interessanti quindi i nostri prodotti li potete trovare sia sul sito mi amo.com oltretutto finita la diretta poi magari mi collego così vi aiuto le ragazze un po' a rispondere e si possono trovare assolutamente anche in farmacia se andate sul sito mi amo.com trovate la farmacia più vicina a voi e come dicevo all'inizio giusto per fare di nuovo un recap noi in questo momento abbiamo una importante iniziativa di sconto nel senso che c'è il 20% di sconto su tutta la linea e poi sull'acquisto di 100 euro c'è anche in omaggio dicevo prima il detergente gentle rose che è questo qua che è un detergente che va bene per tutta la famiglia e un beauty case che è questo che è bellissimo perché dentro c'entra di tutto e oltretutto ha diciamo molto particolare quindi è un beauty case dove c'entra praticamente mi sentite? ti ho persa mi senti? si si adesso si è andata si è andata via solo per un istante adesso sei andata via no adesso mi vedi? si perfetto e qual è il prodotto per le smaiature? allora il prodotto per le smaiature si chiama ve lo lascio qui così potete fare uno screenshot si chiama stretch marks e poi una cosa importante Adwa che ci tengo a dire sempre a tutte le persone io cerco sempre di rispondere a tutte le persone che mi scrivono anche in direct per cui se poi vogliono seguire il mio profilo e hanno piacere a scrivermi in diretta ti possono tartestare esatto l'unica cosa che chiedo è di scrivermi messaggi brevi perché io quando vedo messaggi troppo lunghi non riesco a leggerli no ma diventa anche difficile stare dietro diventa veramente impossibile esatto quindi magari tutte le grafici possibili tipo ho questo problema ho usato questo e non ho risolto dico per dire per cui per cui qualsiasi tipo di richiesta in questo senso sono a vostra disposizione mi dicono passiamo all'anti-age allora prima vi ho fatto vedere un prodotto importante dell'anti-aging di Miamo che è il che è il collagen che è questo qua ok il collagen quindi collagen poi c'è un altro schiero molto interessante di Miamo adesso vi faccio vedere una cosa una cosa che faccio vedere spesso in diretta questo si chiama è un siero che si chiama multipeptide 20% è questo qui ok ed è un siero che serve per le rughe d'espressione quindi serve per il quindi anche qui intorno all'occhio questa qui al centro delle sopracciglia che odio profondamente esatto serve per la zona perioculare ok lo potete usare anche sulla palpebra mobile per chi ha problemi di aptosi oculare veramente fantastico ok si utilizza come dicevi tu per chiunque ha rughe d'espressione nella zona del centro della fronte l'importante è aprire bene la rugosità ok e poi anche per chi ha problemi sulla fronte ok e va fatto questo movimento quindi come avete visto ho fatto vari movimenti quindi sulla zona perioculare ho fatto un movimento di apertura ok e di un effetto diciamo come se fosse un ombretto ok sul centro della fronte prima si massaggia in questo modo e poi si apre bene e poi sulle rughe chiaramente trasversali anche questo in questo modo quindi questo siero in particolare il multipeptide 20% lui è un siero che io consiglio veramente tantissimo per chiunque abbia problemi di rughe d'espressione e serve che si può mettere prima del make up prima di uscire io per esempio ogni volta che devo fare una story su una diretta eccetera perché per diverso tempo mi riuscite a vedere mi vedi aspetta che provo a uscire ma ogni tanto va via e poi ritorna la voce e la tua immagine ok però hai detto quindi che prima di un evento di una diretta metti su appunto questo prodotto e ti dà subito un effetto giusto da quello che ho capito subito ma anche un effetto molto curativo vi ho scritto il nome del prodotto si chiama multipeptide 20% ok quindi è anche facile come nome di prodotto la cosa diciamo la cosa interessante di questo di questo siero è che va a lavorare sia sulle rughe statiche cosa sono le rughe statiche le rughe statiche sono le rughe che quando uno sta fermo si vedono ok sia sulle rughe dinamiche cioè quelle che vedi solo quando ti contrai e ti muovi quindi è un siero veramente molto interessante poi sempre per rimanere in tema anti-aging sempre ovviamente come dicevo prima noi abbiamo tanti prodotti per l'anti-aging però per farvi vedere qualche chicca una delle nostre creme migliori anti-aging è questa qua si chiama age reverse cream è questa qua e lavora sull'ovale del viso quindi sulla ridefinizione dell'ovale mi piace allora ripetiamo il nome del siero allora il nome del siero è questo qua multi peptide 20% non so lifting serum eccolo qua non so se riuscite a leggere mentre la crema si chiama age reverse cream non so se ve le scrivo ve le scrivo ragazzi poi magari metterò anche io delle immagini me le faccio mandare da te o vado sul sito e così magari le metto nel mio profilo se può essere d'aiuto esatto ed è sono diciamo questa crema in particolare oltretutto Ado guarda ti faccio vedere una cosa che è fighissima questa crema praticamente tu la puoi aprire perché è una airless ok e puoi vedere quanto prodotto c'è all'interno e questa pompa ti permette di erogare il 99,9% di prodotto dall'interno quindi non c'è spreco di prodotto sì perché molto spesso rimane il prodotto all'interno della confezione non sappiamo come appunto tirarlo fuori come prenderlo e non ce l'accorgiamo esatto invece volevo volevo dirti su vitamin blend ecco lui è il mio nuovo figliolo io dico così è fantastico vitamin blend è un siero che rimporsa la barriera cutanea e aumenta le difese della nostra pelle è un siero per chiunque abbia fuori dilatati abbia problemi di pelle infiammatoria abbia problemi di acre dermatite qualsiasi tipo di problema di pelle e non problemi semplicemente se vuole vedere la pelle più bella ha problemi anche di cuperose eccetera questo è un siero che dovete veramente provare quindi cuperose ragazze perché ce l'avevano chiesto vitamin blend cuperose dermatite acne macchie è un siero trasversale e aumenta la forza della vostra pelle a difendersi e a ripararsi è un siero ricco di vitamine quindi miacinemide vitamina C pantenolo quindi va anche ad idratare molto bene la pelle e funziona straordinariamente cioè va bene anche per le pelli secche quindi per rispondere ad Antonella perché tu grazie al pantenolo ha un sistema di ti aiuta la pelle ad idratarsi perché rinforza la barriera e quindi la pelle se ha una barriera più forte l'acqua non evapora quindi funziona da dio per le occhiaie io lo sto usando infatti con la pelle secca sto usando questo fantastico ecco l'unica cosa l'unica cosa di questo siero anche sulle mani si può mettere assolutamente sì ma non lo sapevo si può mettere mi è a parte un mondo perché ho le mani distrutte ecco è un siero vitaminico ragazzi è un po' come il concetto di prendere le vitamine per l'orale no le prendo anche sulla pelle e una cosa interessante spesso ci dicono ma le vitamine prese per via orale non servono e non bastano per la pelle in realtà no vanno bene assolutamente per uomini e per donne perché la parte superficiale della pelle non viene errorata dal flusso sanguigno quindi fondamentalmente nel momento in cui io applico una vitamina per uso topico faccio solo del bene alla nostra pelle quindi immaginatevi come vi sentite meglio il vostro organismo si sente meglio quando fate un diciamo carico di vitamine per via orale allo stesso modo la pelle si sentirà meglio quando si si fa un carico di vitamine per uso topico ok tra l'altro tu ti occupi anche di vitamine per via orale insomma no non solo di cosmesi skin care esatto com'è che si chiama il brand Skin Glow Nutri-Juvens l'integratore si chiama Skin Glow e la nostra di integratore si chiama Nutri-Juvens e assolutamente sì io parlo tantissimo dall'interno all'esterno cioè per me l'approccio è fondamentale se il nostro organismo non sta bene neanche la nostra pelle però la parte superficiale della pelle cioè la parte esterna della pelle che è quella che poi tutti vediamo cioè io quando ti guardo guardo quello allora nel caso lì le vitamine purtroppo non arrivano volevo dire una cosa sulle occhiaie ne abbiamo già parlato prima cioè qualche minuto fa quindi nel caso noi salviamo la diretta vero Rosane? sì assolutamente la salverò e la troverete appunto nel mio profilo esatto quindi nel caso poi se avete piacere a parte voi di scrivere in privato se non stiamo parlando di un argomento diciamo specifico per voi mi scrivete e sarò diciamo felicissima di aiutarvi se sta cosa vale per la pelle grassa da mascherina l'abbiamo parlato veramente cinque minuti fa e quindi mi dispiace poi ripetere oltretutto per la pelle grassa con danni da mascherina vitamin blend è favoloso lui è straordinario cioè si vedono dei risultati immediati cioè questo è uno di quei pochi sieri che a distanza di una settimana già ti dà il risultato io sai dove li ho visti soprattutto avevo iniziato ad avere un po' cosa che non avevo generalmente i pori dilatati in questa zona da quando ho utilizzato questo adesso sono nettamente ridotti insomma da subito dai primi giorni quindi l'ho visto soprattutto in questo e volevo rispondere mi faceva piacere rispondere a una signora che dice appunto che molti medici hanno detto che che dicono ogni tanto che il collagene per per vi orale non serve in realtà quando si fa un integratore per la pelle si fa un integratore che ha un complesso di sostanze solo collagene sono d'accordo però se ci sono le vitamine se c'è la glucosamina se c'è l'agricolico idrolizzato il collagene idrolizzato e non il collagene macromolecolare allora in quel caso funziona invece molto molto bene quindi dipende dal caso altra cosa perché molti di loro hanno chiesto che cosa facessi io chi sono io se sono una dermatologa se sono un estetista se sono mi presento giusto due secondi allora sono una farmacista e sono direttore scientifico del brand mi amo e sono anche co-founder e ho una specializzazione particolare in cosmetologia applicata alla dermatologia quindi tutto quello che è l'approccio diciamo cosmetico che va in supporto alla terapia dermatologica quindi that's my job e se volete per cui chiedermi qualcosa non estetista non estetista è diverso sono una una farmacista appassionata di dermocosmesi che lo studia da 15 anni e che ha fatto tanti protocolli anche sul danno cotano da farmaco insomma questo questo è il mio lavoro ok quindi no lo dico perché magari giustamente qualcuno non mi conosce no 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 certo io ho provato a fare una presentazione ma tu sei stata molto più brava ovviamente mi dicono se spedisci anche fuori in Italia allora guarda non noi direttamente ma molte farmacie che rivendono i nostri prodotti sì quindi per esempio ci sono adesso non voglio fare nomi però ci sono diverse farmacie che se andate sui loro siti degli retailers scrivete mi amo lo trovate vendono i nostri cioè riescono a consigliare all'estero noi direttamente non lo facciamo ma perché noi siamo concentrati adesso 100% sul mercato italiano e già ci dà un gran mal di testa nel senso che già tanto tanto da fare con noi italiani e oltretutto devo dire che mi date grandi soddisfazioni per cui in questo momento sono molto concentrata sul mercato Italia l'ultima cosa mi potete seguire su Instagram assolutamente sì sono molto attiva su Instagram vero Rosetta cioè molto attiva moltissimo moltissimo e dà dei super consigli quindi vi consiglio assolutamente di seguirla ecco aspetta che è arrivata la domanda che volevo prodotti anche cellulite ecco questa è una bellissima domanda no scherzo anche gli altri però sono una domanda che piace a molte donne allora noi allora innanzitutto io sono una di quelle fanatiche che crede che nessuna crema funziona senza l'attività sportiva partiamo da questo posto alimentazione sana esatto bene tanto e creme giuste ma soprattutto per la cellulite se non facciamo un'attività sportiva adeguata non andiamo da nessuna parte quindi le creme sono eccezionali mi amo è straordinario non perché lo faccio io ma perché ci credo ma non basta da solo e questa è la premessa perché mi piace essere sincera poi chi mi seguirà lo vedrà io chi mi segue sul mio profilo io parlo tantissimo di questi temi poi noi facciamo una crema anti cellulite di mi amo che ora non ho da mostrarvi qui ma semplicemente perché lo porta la avevo nella borsa da ginnastica e quindi adesso la lascio lì perché la metto sempre dopo l'attività sportiva allora la nostra crema anti cellulite lavora sui noduli quindi proprio sui buchetti ok e lavora anche sul drenaggio per cui funziona veramente molto molto bene e oltretutto a breve regaliamo una borsa da sport proprio da sport insieme alla crema proprio per invitare andare a fare sport esatto infatti io farò un'attività pazzesca con tutti i fitness influencer perché io ho detto cari ragazzi senza lo sport le creme non funzionano quindi quindi molto bella però questa crema oltretutto lascia la pelle molto idratata l'unica cosa che consiglio è di non farla subito dopo la doccia le prime volte perché vedi la pelle veramente cioè si arrossa un po' all'inizio per drenare per aiutare il drenaggio e dopodiché si diciamo una domanda su questa crema interferisce forse con la tiroide no assolutamente no è formulata proprio apposta per non dare problematiche su pazienti ipo o ipertiroidei perché non contiene fonti di iodio all'interno quindi assolutamente non non dà nessun problema per favore il tuo nome su instagram camilla d'antonio giusto? esatto esatto facilissimo camilla d'antonio di apostrofantone adesso vi scrivo eccomi un eccomi così mi potete mi potete seguire anzi mi fa piacere nel senso che comunque mi piace interagire con le persone è un effetto caldo freddo esatto esatto sentite prima l'effetto freddo più freddo e poi sentite l'effetto caldo se fate dei trattamenti dei massaggi con delle setiste portate questa crema e fatevi fare un massaggio gli ultimi dieci minuti con questa crema perché i risultati sono fantastici c'è chi lo dice mi sa che Lily l'ha provata perché ha detto che è senza ponti di iodio e cromo è eccezionale ci dice Lily allora Camilla io credo che un po' il tempo sia finito perché se no si blocca in automatico e non riusciamo a salutarci e a salutare tutti quanti sei stata veramente fantastica grazie è bravissima è bravissima tu di più ricordo a tutti il 20% di sconto solo fino al 10 è il fantastico regalo che vi ha mostrato prima Camilla questo beauty tra l'altro realizzato con prodotti assolutamente reciclati quindi top grazie mille aspetta che ti faccio vedere quante cose entrano qua dentro no ma dammi un secondo ti devo far vedere guarda ovvio no ma perché io sono molto orgogliosa da donna no allora aspetta guarda qua non so non so se mi spiego cioè ci entrano tutti i serie perché ho tantissimi clienti di Niamo che hanno di tutto e di più quindi io adesso vi faccio vedere cosa entra qua dentro vediamo se non ho esagerato sappi che verrò a prenderlo e lo voglio pieno ovviamente esatto tutti i prodotti per la mia pelle guarda che cosa fa perché è uno di quei beauty cioè io guarda qua e ancora c'è roba cioè sai quando perché ho perché tantissimi clienti di Niamo hanno tantissimi prodotti di Niamo e a loro ho detto perché non fargli un beauty che così mettono tutto dentro non perdono ecco grazie di cuore a tutti un abbraccione e un saluto e vi aspetto per qualsiasi tipo di domanda anche sul sito Niamo.com adesso mi collego di là e così ci sono per rispondervi un bacione grazie mille Camilla grazie a tutti grazie noi siamo qui a casa c'è chi va a giocare a padel e chi dal dentista c'è chi va a giocare a padel esatto poi volevo aggiornare sulla maratona di domani perché domani c'è la Milano Marathon sapete io ho un po' che mi sto preparando questa settimana è arrivata la bellissima notizia che non dovrò fare sei chilometri e mezzo ma otto e mezzo quindi domani sarà sarà una piccola impresa però lo scopo è un benefico quindi ci proviamo poi vi racconterò un po' tutta diciamo tutta l'organizzazione anche perché è la prima maratona a cui partecipo quindi speriamo di arrivarci e di uscire tutti interi perché otto e mezzo sono tanti tra l'altro ho chiesto consiglio al coach Alessandro per un minimo di alimentazione oggi perché ho paurissima che mi prenderanno i crampi però ci proviamo no alcol no alcol niente da sera c'è il mondo c'è Croccantino c'è Sonia c'è Cecilia c'è Elisabetta c'è Rosalinda c'è Andrea c'è il mondo sentiamo tutti è finita e come abbiamo visto Rosalinda non sta tanto bene ha fatto anche delle live ha fatto delle registrazioni insomma ha fatto tante cose che però ora ha detto che deve andare dal dentista speriamo presto che stia meglio adesso intanto vi faccio vedere la poesia si parlerà d'amore si parlerà di passione e si parlerà di sentimenti tu per me sei speciale quando sento la tua voce ho un tuffo al cuore quando ti vedo sono felice e ogni volta che ti penso ti desidero sempre di più ti desidero ancora e voglio i tuoi baci le tue candide carezze e la tua bocca è il cuore brucia per te come il sole d'estate e guardando le nuvole vedo la tua immagine mi perdo nel cielo e trovo la mia eternità i tuoi occhi sono un oceano di bellezza se li guardo da vicino vedo quanto sei unica i tuoi occhi sono esattamente belli e individuali come la tua personalità volevo dirti che tu per me sei unica e che nel mio cuore ci sarà sempre posto per te ti amo intensamente ti voglio intanto vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanella mettere i vostri like perché così vedo che ci siete e che mi sostenete e lasciate il vostro commento sotto il video noi ci vediamo molto presto da Tano TV di iscriviti Grazie.